Un'ennesima scoperta archeologica in piazza San Giustino, una cisterna del II secolo d.C., che è l'ennesimo ritrovamento archeologico di questa piazza, che ha anche un grande valore storico. Certo, è una cisterna che viene a comporre il quadro dell'uso che nel tempo è stato fatto della piazza, cioè di questo spazio che alla fine è diventato una piazza, alla fine di duemila anni di storia, ma che un tempo era abitato in varie forme, dall'uso funerario nel IV secolo d.C., poi all'uso forse residenziale abbiamo trovato mosaici e una struttura edilizia piuttosto importante. Era un deposito, era un serbatoio idrico e quindi serviva alla città per l'uso dell'acqua, ma è particolarissima perché è grande, è molto grande, è realizzata in mattoni e quindi in tecnica laterizia. Con la scoperta di questa cisterna idrica del II secolo d.C., di fatto si concludono gli scavi in piazza San Giustino per studiare e capire cosa c'era sotto questo collegallo e poi procedere naturalmente alla restituzione di questa piazza alla città di Chieti. È stato un anno di scoperte e di accertamenti molto interessanti e significativi, di cui renderemo conto in un altro momento, ma adesso dobbiamo chiudere perché abbiamo riportato tutti quelli che erano i dati che potevano avere un interesse per arricchire la conoscenza del collegallo e abbiamo avuto diverse scoperte interessanti, ma il progetto è quello di restituire alla città una piazza. C'è in progetto anche un centro di documentazione? Assolutamente sì, sotto la sede storica delle comune ci sono dei locali che sono stati individuati congiuntamente dal comune e dalla soprintendenza come adeguati per realizzare un centro di documentazione sulla vita nei secoli di questo luogo, del collegallo, che ci ha dimostrato di parlare tante lingue dall'età preromana fino all'Ottocento. Entro aprile la piazza verrà ricoperta per consentire il passaggio della processione del venerdì santo. A maggio poi inizieranno i lavori di pavimentazione che consentiranno alla piazza di essere di nuovo fruibile per la metà di agosto. Una volta terminati i lavori e finito il distanziamento Covid potrà contenere fino a 1.400 persone sedute, il che ne farà una seconda arena dopo la Civitella per gli eventi a Chieti.